I Costituenti scelsero la Costituzione rigida, lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile o perlomeno aveva funzionato come tale, perché era andato modificandosi con l'evolversi della monarchia costituzionale in un regime parlamentare o almeno se non perfettamente parlamentare, semiparlamentare, perché alcuni poteri erano rimasti al sovrano, basta pensare all'articolo 5 che era sempre in vigore, che riservava al re il diritto di dichiarare la pace e la guerra e di sottoscrivere trattati internazionali, è noto che all'epoca i trattati erano segreti, segreta era la triplice e segreto soprattutto fu il famoso patto di Londra che provocò la nostra entrata in guerra all'insaputa del Parlamento, perché era conosciuto solo dal re, dal presidente del Consiglio Salandra, dal ministro degli esteri Sonnino, dal capo di Stato Maggiore Cadorna e dall'ambasciatore imperiale che era l'ambasciatore a Londra che l'aveva negoziato. Quindi una Costituzione che è cambiata, che poteva essere modificata da leggi ordinarie, tanto è vero che lo stesso Giolitti quando torna al potere nel 2020 propone una modifica dell'articolo 5 dello Statuto, trasferendo al Parlamento il potere di dichiarare la guerra e di stipulare i trattati di pace e i trattati internazionali e tutto ciò con legge ordinaria. Probabilmente anche sotto questa impressione fu scelta la via della Costituzione rigida, cioè di una carta che non può essere contraddetta con una legge ordinaria, che pone un limite al legislatore.